Arrivano dalla Regione i contributi per i comuni piemontesi colpiti dalle alluvioni nel 2019. Somme che consentiranno di realizzare interventi di ripristino di strade, ponti, edifici, infrastrutture e altre opere pubbliche. Per il biellese arriveranno 684 mila euro per 17 interventi. Come sottolinea il Presidente della Regione, Alberto Cirio, l'assessore Marco Gavusi, l'impegno della Regione Piemonte per i comuni danneggiati dalle alluvioni del 2019 prosegue anche in questo nuovo anno. Ancora sottolinea Cirio, consapevoli delle difficoltà del momento, delle necessità dei comuni, soprattutto quelli più piccoli, stiamo utilizzando gli strumenti disponibili per far sì che i contributi ci siano e siano erogati al più presto. I territori hanno bisogno di mettere in sicurezza le opere senza indugiare oltre, in modo da evitare che si deteriorino ulteriormente ed è nostra ferma volontà continuare a sollecitare Roma per il progressivo sblocco delle somme. I beneficiari saranno direttamente i sindaci dei comuni colpiti e i presidenti delle province. Nei prossimi giorni riceveranno dagli uffici tecnici regionali la comunicazione con la richiesta della documentazione necessaria per ottenere l'erogazione del contributo.